Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Fabio At Work! Allora ragazzi, 5 secondi dopo aver finito questo progetto e averlo pubblicato su Facebook mi sono arrivate subito tantissime richieste richieste che sono arrivate anche nell'ambito familiare quindi chiaramente do spazio a le prime richieste che ho ricevuto da mia nipote e la vado quindi a testare e andiamo a fare la sua prima traforata prima di iniziare qualsiasi discorso fatemi ringraziare Elio Palma per la generosissima donazione Grazie Elio! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. 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 E io vi do appuntamento nel prossimo video. Ciao ragazzi!